Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4 Rieccoci nei panni di Nathan, diciamo, adulto, grande, vi pare E siamo tornati, diciamo, per quanto riguarda il discorso isola, no? Nel punto in cui ci eravamo lasciati prima di quel, diciamo, di quell'episodio che riguardava il passato di Nate e Sam Quindi niente, andiamo avanti, seguiamo Elena, perché sì, è venuta fare anche Elena Che grazie al cielo era lì e ha potuto salvare Nathan che era scato e si era fatta decisamente male Insomma, classico culo fra l'altro Vabbè, e niente, andiamo avanti, vediamo un po' Vediamo oggi, d'apposta, ve lo farò smerda un po' Sì, vieni Grazie a tutti E' molto che sei qui. Lì, da qualcuno. Hai visto la colonna? Sì, da lì. Incredibile, no? Mi sarebbe piaciuto. Giusto. Sembra di sì. Avery deve avere assunti i migliori ingegneri della sua natura. Forse l'ho usato per trasportare le scorte sul fiume. Sì, è verosimile. Ah, ok, gli va. Eccoci. Vale. Guarda, c'è un passato. Ah, già, com'era? Aiuto, aiuto. Eh? Vale. Allora, devo più quella del tasto. Ecco l'auto. Dobbiamo capire come arrivarci. Beh, adesso. Da che parte? Diamo un'occhiata. Ah, troppo in alto. Cerchiamo un'altra strada. Ecco, potrai tirarti su qui. Oddio. Oddio. Credi ci sia un altro modo per salire? Eh... Ehi, c'è un passato qui. C'è un passato qui. Prova qualcosa di utile. Ok. Ho trovato qualcosa. Aspetta. Attenzione, ti ha più. Classica cassa della servizia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ehi, bel salto. Niente male. Vai incazzare una donna dal cielo. Sì, ti verrà. Dai, ti aspetto più avanti. Sto bene. Più o meno. È tutto sotto controllo. Vedi se riesci ad arrivare qua tu. Sì, sì, d'accordo. Nate, riesci a trovare un passaggio? Sembra un piccolo cieco. Oddio. E' dubito. Ha 300 anni. È rimasto all'intemperio. Forse non ha mai... Guarda, non c'è. Sali. Sali. Ah, ok. Pensavo era diversa lì dentro. No, allora ascoltiamoci un po'. Vì, è morto perché è fatto tutto da solo, eh. Riesci a trovare un passaggio? Sembra un piccolo cieco. E se l'ascensore funzionasse ancora? Ne dubito. Ha 300 anni. È rimasto all'intemperio. Forse non ha mai... Guarda. Guarda, 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 guarda. Sì. Ah, ok. Ma... Comunque cosa devo fare? D'accordo, allora ci vediamo in cima. No, non ci vedo. Mamma mia, sto per morire. No. Allora... Oioide, con calma, con calma. Dev' andare di va. Vai. Il problema è andare di va. Si vede una sega, però, così, eh. Ve lo dico. Ti giri? Accidente. No. Va. Vado a vedere che botta fa, eh. Quei cazzo che si si gira. Oh, provo. Se muoio pace, si rifà. Vabbè, niente. Proviamo ad andare da l'altra parte. Proviamo ad andare di va. Ma vedrai, no. Vedrai, bisogna andare per forza di va. So io che sono un cretino. Mi fisso. Fa cose che, in realtà, probabilmente, non devono essere mai fatte. Spam. Vai. Andiamo di va. Andiamo un po'. Oh, visto? Stavo andando di là. Eh, ci mancavano noi, erano tre coglioni. Non c'è nemmeno la pistola. No, ce l'ha invece. E non è da lei. Mamma mia. Andiamo. Sarebbe più facile individuarla dall'alto. Giusto. Buon'è. Beh, almeno così ci teniamo in forma. Giusto? Guarda, sciogli. Ho trovato la tua auto. Perché non mi trovo l'alto. Beh, riprendiamocela. Credi che sia con Drake. Cazzo, fai tre munizioni. Vale la pena provare. Elena, forza. Ci sono. Vai. Qualcosa. Vedo andando. Uno a terra. Ok. Dimi una cosa. E non è una brutta cosa se si va a vedere il discorso di rinunciare nel suo stile. E non è un'altra cosa. Ma che coglielo. Ma che coglielo. Ma è. Ma che coglielo. Ma è. Ho portato la macchina, ma vorrei averlo fatto. Perché pensi che Sen non sia venuto direttamente da te? Credo volesse raccogliere tutti gli indizi su Eder prima di un cerco. Inoltre, potrebbe ancora mettere insieme con la storia di Akazana. Sì, sono vero sicuro. E' un aggeggio proprio strano. Si trova, si trova, se si spacca la macchina. No, vabbè, andiamo di qua. Che va a buttare di sotto. Dove cazzo, levanta? Di va. Mi sembra che qui si è fatto il giro al vostro. A parcheggio qui, deciso. Bene, andiamo un'occhiazza. Il freno lì, che è a regola del coso, il venicello. Dovevamo a vedere. Non è successo grande. Allora... Allora... Non so, resta. Ok. Allontanati, ci sono. Ok? E ora? Credo di poter salire adesso Grazie Vista è la cassa Non è che dormo Volevo vedere un attimo se c'è da fare Ah qui c'è un tesiolo Adesso siamo lì Dove va messa la cassa però? Lì Dai lì Andiamo Abbastanza tanti giramenti di coglioni No Ti faccio Da salire Eh sì Ancora no Devo arrivare più in alto Mi serve un ascensore Per preparare l'ascensore Brava cucciolina brava Ora spregio per farmi ricarla tutto Stacca il coso Riparte a girare tutto E muore Fine Per quello Fine di un ladro Ok Ok Chi sono È fatta E' fatta ciao e adesso forse dovrei andare in porta sì, attento vai giù, nasconditi niente ti vedevo ti vedevo 1,2,3 10 muerto sì, quanto pare bene, quindi sì su su, su arriviamo anche qui come sempre ragazzi stanno allo scazzo perché prima di me potrei rimanere sull'ascensore me ne fa problemi me ne va male me la lascio la pistolina grazie mi 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 va sono forse l'invito spalato io ho visto così non è per perciò muovo poi usci la riafidi scorso no si non rompere coglioni però è l'enuncia cioè io ti ammiro tutte le cose però non rompere le palle la sei meritata la pulizionale rossi va bene macchinari e strutture che stirano il nuovo credi sia rimasto qualche tesoro avevamo già pensato ecco l'ascensore ecco l'ascensore non si se si pillati con piena la riga ma si si ma si si ora ci siamo ho di nuovo il controllo ci siamo quasi non è che per caso hai portato un cambio vero? bene è sull'air meno bene ehi quella diga possiamo giudere la chiusa si si devo per farti salire? sulla macchina intendo che non so dove devono andare e se vado di via necchi arriva giù si ma ci devono andare ecco l'1 dio bono no e là invece ci sono aspetta ci siamo ma sartati devono andare per forza arrivare necchi e devono andare dall'altra parte aspetta 1 eh infatti chiaramente ma zecco alla seconda vabbè si va allora ma è scemo devo tenere premuto se devo fare non poteva venire scritto no non poteva necchi niente da fare è bloccata buona merda ok provo l'altra devo aspettarmelo e dietro la porta numero 2 è uno scroscio d'acqua mazzo mazzo cittadina sono male così vabbè per farlo il complimento non comunque vabbè addio 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 omm eccoci qua devo scendere che ho visto una frentina tipo quindi ora dobbiamo aspettarci qualche disagio la ruota sta girando, bene no? boh provandola dove ho visto prima eh, di là vediamo se è un percorso assolutamente, sì, una fregatura vediamo ma forse è il percorso da fare forse è un po' il tesoro ma c'è anche dentro il tesoro ho visto lo sbaglione no che c'è un'altra cosa vabbè si butta tutto dentro chiaramente giriamo, non c'è niente si butta dentro niente mi sa che non è il percorso da fare nella storia giusta era solamente appunto una deviazione per trovare questi classici tesorini che sinceramente a me mi stanno tanto venendo a noi perché mi fanno perdere il tempo perché stavano gioie diciamo con tranquillità tra virgolette da solo è un discorso che i tesori fanno comodo no? magari fai registri video sono periti di tempo è vero soprattutto se il video non è incentrato a trovare i tesori ma andare avanti con la storia ma va bene eccoci qua un'altra vai 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 ciccio vale vai prendiamola anche se mi fa cacare ce ne andrà qualche parte li va li va a vedere no li va dove sei andato prima uccidenti uccidenti posso buttare sulla realtà ho troppe pretese probabilmente troppe pretese ci provo di provare uguale no scherzo non so come fa che volendo un dogazzo c'è da andare io a due ore che giro via ma qui solamente era solamente che questa tesorina di merda vabbè cambiamo eh andiamo in un'altra parte vediamo qui cosa c'è vediamo qui cosa c'è oh ok vedo in me dopo devo andare qui vabbè scusate vabbè scusate tengo io tu sposta l'auto vieni Urk ok ok speriamo bene no davvero i tre ore a gira capito se lo fa poco basta ma solamente fa questo a sapere vedete ma ve ne rendete conto ho Gregorio nella ingegneria per è fantastica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo avanti. E si scoprì che tutto questo asino per andare a fare una bracciata in libertà, in solitudine, tranquilla. Faccio una TV in questo parco. Vabbè, non lo so, mi veniva la voglia di dirla, questa serie me la sentivo e l'ho detta. So che non fa rire, però... Non so, non so, sdrammatizzare, fa due acri in questo percorso di silenzio. C'è tutta anche la stradina. Mi votate una nuova buona nuova. Faremo il possibile. Passo e chiudo. Bobbou. Ok, forse è dall'altra parte del ponte. E' un'altra parte del ponte. E' un'altra parte del ponte. Non so, ma... La macchinina... Cos'è... Prendiamo. E' un'altra parte del ponte. io mori c'è però vabbè si ma io l'ho infrata non te l'ho detto perchè avevo paura paura di cosa? di perderti forse stavo proteggendo me stesso capisci abbiamo ancora molta strada da fare oh però hai rotto coglioni lei ti fa sempre semi muro lo apriti lo fa lui in momenti che non ci mi è mancato per l'iniziativa lui mi ha finito il discorso ora non mi stava simpatica quando fa così ora è proprio odiosa fino all'ultimo almeno siamo sulla riva giusta del fiume ma sarebbe stato un problema vada bozi qui se la fa salire qui va forse qui va che cazzo le manco allora andiamo un po' ok saliamo lì che io non ce la fa arrivarci qui si smusa ora si è la prima no ora si va bene magari potremmo tornare qui in vacanza no vai madonna e palle mia schiocca la lema no no me ne fega niente oh vero diretta riposa in pace amico la fa devi non è la spicciola ah niente ciao 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 eh guarda il cartello tratto di sole è uno dei ribelli brutto modo per morire eh un po' si qui ce n'è un altro dove allora vediamo un po' se da fa da a la si non in la non non in non 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 4 san cimitero più che altro allora ragazzi come avete visto no siamo arrivati va e è partita la solita diciamo è venuta fuori la solita scritta che ti avverti che inizia il capitolo nuovo il diciottesimo in questo caso quindi di conseguenza vuol dire che quello precedente ovvero il diciottesimo è finito quindi cosa vuol dire questo che in contemporanea alla fine del capitolo precedente ovvero il diciottesimo finisce anche codesto sentitevi lì no episodio quindi niente e non mi resta che salutarvi e vi aspetto nel prossimo nuovo capitolo barra episodio questo caso dicottesimo che se non sbaglio si chiama New Devon quindi andremo a regola nella città nella nuova Devon ecco no la città che avevamo sentito nominare nei capitoli precedenti via detto questo vi aspetto ciao e vi saluto ciao 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 Grazie a tutti.